Ciao! Prendiamo il volo! Per la Sardegna! Per il nostro aereo! Bello eh! Rebbi sei felice? Ecco ci siamo! Ci siamo! Ciao Molly! Wow bello questo aereo! Ciao! Eccoci! Ci siamo! Ciao! 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 Eccoci qua ragazzi! Siamo arrivati finalmente della nostra nuova dimora! La Rebbi è in bagno adesso vi faccio un tour guidato! Allora qua possiamo vedere le camere da letto per gli ospiti quindi ragazzi se volete venire venite pure! C'è un letto e anche un altro! Qui possiamo vedere una fantastica veranda! Vediamo qua dentro! Oh bello! Ecco! Qua potrei nascondermi dalla Rebbi eh! Salve! Salve! Non c'è nessuno! Andiamo via! Allora questa è la prima stanza! Poi vediamo andiamo in giro! Questo è il salotto ragazzi! Guardate che bello! È gigante! Guardate! Lì c'è un fantastico divano! Qua tutta la stanza! Qua c'è la cucina dove Molly mangia un sacco! Ecco qua! Salve! C'è nessuno! Il frigo è vuoto! È totalmente vuoto! Qui cosa c'è? Oh! Mostro! Mostro della casa! Up! Non c'è nessuno! Bu! Poi vediamo! Questo è tutto il salone! Guardate che bello! Qua fuori faremo il nostro pranzetto! Il nostro... La nostra colazione! Ecco guardate che bello! Poi di qua dove si va da questa parte c'è la camera da letto! Qui c'è la Rebbi in bagno! Ciao Rebbi! Ciao! Adesso è in bagno che le sta facendo la cacca! Che puzza! E qua c'è la stanza da letto che abbiamo già riempito di San Frusaglio! E qui dormirà la Rebbi! C'è anche l'orsetto! Ecco qua! Eh? Vi piace? Fateci sapere se vi piace la nostra casa! Adesso ci prepariamo che andiamo in spiaggia! Eccoci qui! Ciao! Siamo arrivati! Guardate che acqua! Bella! Adesso bisogna tuffarsi! Guardate come è trasparente! Guardate che bella! È pieno! Ok! Adesso ci buttiamo! 3, 2, 1... 3, 2, 1... 3, 2, 1... 1... ok mi rituffo molli la balena bravi, bravi, bravi vai, buttati ah, frato vai, buttati buttati, buttati buttati, buttati buttati è il momento è bellissima Andiamo nella palta E' la la Rebby, la vedete? Ciao Ciao Grazie a tutti. Giorno 2, rifuso. Ciao. Adesso vi faccio vedere come l'acqua qua. Ecco qua. Direi di tornare da Mollettino che ci aspetta sotto il nostro ombrellino. Eccolo qua, l'ombrellino di Reby e Molly. Ciao Molly. Siamo fatti la capanna. Cosa fai? Sto legando il costumbo. Adesso andiamo in acqua. Oh, è fratto. Guarda. Guarda. Che è un'alga che sta in piedi. Vai Molly. Vai 3, 2, 1. Ecco Molly mi ha schizzato tutta. Oh, dove sbuccherà? Wow, è arrivato già laggiù. Ciao Molly. Adesso tocca a me. Adesso vi butto. Vai Rebechina. Vai Rebechina. Vai Rebechina. 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 Putati. Va din explorazione. Vai. Ragazzi, la Rebechina non si butta. Adesso la bagniamo. Guarda i miei piedi. Ehi, cosa hai fatto? Devi far guardare. Adesso ci sono. Adesso li ho fatto sparire. Allora vado eh. Vai Rebechina. 1, 2, 3, 4. Vai Rebechina. Vai, vai. Eccolo. Wow, è bellissima. 1, 2, 3. Ok. Ok. Adesso ci diamo un battito. Vai. 4 subacqueo. 3, 2, 1. Ok, adesso ci daremo un batto subacqueo. Un batto sott'acqua. 3, 2, 1. Ok, adesso ci daremo un batto subacqueo. Vai Rebechina. Adesso verticale. Ti proviamo. Vai. Vai via. No. Ti riproviamo. Questa verticale su bassa. Questa sincro. Questa. Questa di sottotona. Per il sottotè di vino. E poi. ÈLA che stia atti. Tri callata. Un attimo tanto diépendose surello. T commento di qua. Grazie a tutti.